La conquista della Final Four regionale, primo atto di un altro tentativo di scalata alla Serie B. Il ritorno del secondo turno play-off, conquistato di diritto dal proiettivo Tennis Team, ha sentenziato che anche nel 2023 il club di Gravina è candidato a vincere la Serie C maschile, stavolta magari riuscendo a superare il tabù finalissima nazionale che per bene tre volte non è stato infranto. Prima il passaggio da Sciacca, dove dal 2 al 4 giugno la fase finale siciliana indicherà le due compagini pronte a giocarsi la promozione. A metà maggio il match casalingo contro Vela Messina, concluso in maniera vittoriosa all'andata 4-2, è stato archiviato già a metà giornata grazie ai successi di Cristian Proietti su Leonardo Gagliani 4-6-6-2-6-4, di Raffaele Frasca su Federico Gargano 6-3-6-7-6-4 e del francese Lorante Ianaiss su Fabio Barcelona 6-0-6-1. Per gli ospiti, unica vittoria di Enrico Briguglio 6-4-6-0 su Daniele Grillo, ininfluente ai fini della qualificazione. Out Danilo Vassallo per l'occasione, infortunato, nel roster del Proietti Tennis Team, ma anche Roberto Vassallo, Riccardo Guarnieri e Dario Proietti. Per il rinomato Circo Letteneo, che di recente si è reso operativo con due società, la ASD Proietti Tennis Team Padel e la Hermes Sport Service SSD, saranno mesi abbastanza intensi. Gli impegni con la squadra maggiore di Serie C e di altre categorie, il Memorial Marco Vassallo, di scena per la quarta edizione del 28 maggio, i vari tornei estivi, ma anche il Padel, attività iniziata poco più di due anni fa, di cui ci parla l'istruttore Vincenzo Profeta, con le due squadre di Serie C maschile e femminile, e il tanto atteso Grest, che giunto alla decima edizione, animerà le giornate estive. È la quarta volta, questa è la quarta volta che siamo lì presenti alla Final Four, quindi sicuramente quest'anno per la prima volta siamo quelli che forse siamo meno favoriti, finalmente. Dico, sottolineo questo aspetto perché così andiamo lì con tranquillità a giocarci alla tutta, gli elementi per giocarci alla tutta ce li abbiamo, quello che forse manca adesso, perché purtroppo questa formula ci costringe a star fuori tre, quattro giorni a tutta la squadra, qualche amico sponsor che ci possa aiutare, visto che nel girone qualcuno c'è stato, adesso veramente è difficile, però con tutto ciò i ragazzi oggi ce l'hanno messa tutta, ci hanno messo il cuore, volevamo chiuderla ai singolari con Vela Messina, ci siamo riusciti, ci siamo riusciti grazie ai tre successi di Anais, di Cristian e di Lele Frasca, perché non ho potuto schierare Danilo Vassallo oggi infortunato, però devo dire anche Daniele Grillo, tutti hanno fatto la loro parte e tutti hanno fatto notare che sono una squadra compatta e unita, una squadra di giovani che finalmente mi sta dando belle soddisfazioni. Adesso comunque vado e sono sicuro che ce la metteranno tutte e sono sicuro che faremo la nostra parte in questa Final Four. Oggi abbiamo fatto un'ottima prestazione, anche perché loro sono avversari davvero di alto livello e quindi siamo entrati subito concentrati per cercare di vincere direttamente ai singolari, perché a noi bastava un pareggio, oggi tre pari, per poterci qualificare dopo il 4-2 dell'andata. E quindi eravamo molto concentrati appunto per raggiungere questa vittoria direttamente ai singolari, anche perché il nostro straniero aveva poi il volo alle 7 del pomeriggio e quindi facevamo un po' fatica a schierarlo in doppio. Quindi il nostro obiettivo principale era questo e ci siamo riusciti facendo e disputando delle ottime partite. Tutte le squadre che sono approdate alla Final Four hanno grandi giocatori, quindi saranno sempre partite molto equilibrate e molto anche belle da vedere e con cui lo spettacolo non mancherà, anzi speriamo che il tempo regga e ci possa far gradire queste partite. Senti, per quello che riguarda il futuro ci sono le due classiche competizioni, subito adesso c'è il Memorial Vassallo. Certo, noi ogni anno fremiamo per poter organizzare almeno questi due Memorial, perché le persone che sono venute a mancare erano davvero parte integrante della nostra famiglia e spero che loro siano davvero felici, che noi li ricordiamo sempre in questo modo ogni anno. Questi tornei sono molto importanti per noi, di solito si iscrive un gran numero di persone e spero che lo facciano pure stavolta. Saranno due dei pochi tornei che abbiamo fatto quest'anno, perché col tempo, con i pochi campi che abbiamo, organizzare comunque tornei con la scuola tennis non è facilissimo, però siamo sempre orgogliosi di poterli organizzare e spero che escano delle belle partite anche lì. In estate abbiamo un torneo giovanile, di categoria giovanile a 10, 12, 14, quindi un torneo che di solito è una classica dell'estate, dove tutti i ragazzini del circuito dopo la pausa estiva, o prima della pausa estiva per alcuni, si ritorna a calcare i campi da tennis e qui, sui nostri campi, abbiamo portato fortuna a molti di questi piccoli talenti che in futuro poi sono diventati già dei buoni giocatori. Il padel è cresciuto molto, come sappiamo, in tutta la Sicilia, in tutta Italia. È uno sport che si sta fermando parecchio. Qui noi abbiamo un discreto movimento, e un paio di persone che giocano, che comunque fanno sì che il nostro circolo sia abbastanza conosciuto nell'ambito catanese. Siamo partiti da zero e siamo arrivati ad ottenere anche la promozione dalla D alla C. Quest'anno abbiamo due squadre in Serie C molto competitive. Il nostro obiettivo è quello comunque sia di far divertire i ragazzi e le ragazze, e di creare comunque coesione all'interno del circo, all'imera tale che si trovano e si sentano soprattutto a casa. Con Antonio è nata subito una sinergia e ci siamo trovati subito bene entrambi, quindi non ho esitato un minuto, un secondo a dire subito di sì a questo progetto e a questa ambizione personale sia mia che sua che abbiamo verso questo sport, queste discipline, quindi trasmettere amore e passione agli altri. Questo è il nostro decimo anno. Il campus sì è vero, è un momento di svogo per tutti, è un campus sportivo, prettamente sportivo, inizia il 12 giugno e finisce il 28 luglio, per cui vi aspettiamo numerosi come ogni anno per divertirvi.